gentili telespettatori buona giornata allora ho trovato un articolo su un giornale visto che c'è stato il caso boldi ma non è che ci siano altre notizie che parlare di massimo boldi oggi 16 agosto allora questo giornale dice guardate che l'attore comico 79enne negli ultimi anni si è reso protagonista di una serie di figuracce tra facebook e instagram e tira fuori l'elenco delle più celebri allora il famoso cipollino da luino quindi cipollino è di luino bene diciamo che approccia i social con spigliatezza e simpatia però alcune cose che ha scritto possono essere fraintese possono strappare qualche risata solo che voi sapete che oggi oggi alcune cose non le puoi dire oggi la comicità è fortemente limitata massimo boldi viene da una comicità degli anni 80 dove nei film nelle trasmissioni televisive tu potevi dire anche delle cose abbastanza a doppio senso o fortemente a doppio senso e quello era uno dei pilastri della risata il doppio senso era uno dei pilastri della risata per far ridere come si faceva principalmente facevi ridere prendendo in giro gli altri guardate anche zelig per esempio tutti gli anni di zelig quei comici che salivano sul palco uno dopo l'altro se ci pensate bene il comico di turno faceva ridere prendendo in giro persone o situazioni cioè il comico prende in giro qualcosa o qualcuno se però il politicamente corretto ti dice guarda che da adesso in poi non devi neanche lontanamente prendere in giro qualcuno vi ricordate gerry scotti e la unziker che in trasmissione avevano fatto così gli occhi a mandorla ed era venuto fuori che gerry scotti era rimasto dicendo caspiterina non si può più neanche fare una battuta sugli occhi a mandorla dice ma così non possiamo più cioè dove dove è finita la comicità non c'è più perché se tu devi fare il comico prendendo in giro gruppi di persone che possono essere di un miliardo di dieci persone non lo puoi fare rischio ti buttano fuori dal lavoro ecco e così il boldi della comicità degli anni 80 oggi non può fare il comico però lui sui social fa delle battute o sembrano delle battute che oggi non la società bigotta ipocrita non le non le accetta più per esempio la leader di fratelli d'italia la meloni aveva appena pubblicato un toccante video messaggio di addio dedicato a silvio berlusconi appena scomparso e massimo boldi aveva scritto ed ora toccate ma ora toccate prendere il posto di berlusconi come capo del governo ora toccate dopo berlusconi toccate andartene quindi aveva commentato con un messaggio alquanto fraintendibile era dato solo era un messaggio solo superficiale dove non ha pensato realmente che scrivendo quella cosa poteva essere fraintesa o era una goliardata o era una cosa che lui ha fatto volutamente fraintendibile per far ridere perché come vi dicevo oggi la gente non ride più ti dice ma cosa hai scritto ma cosa stai dicendo negli anni 80 avrebbero riso a cipollino ha detto ora tocca a te invece nel 2023 2022 ti dicono ma cosa stai dicendo non fai ridere ecco poi naturalmente sul web cancella subito quello che hai scritto ma cosa auguri alla meloni cipollino ma cosa scrivi insomma negli anni 80 si sarebbero ribaltati in parcheggio dalle risate anche poi non esistevano neanche i social quindi magari cipollino l'avrebbe detto in una trasmissione televisiva il pubblico avrebbe riso il conduttore avrebbe detto eh massimo boldi lei fa le battute a doppio senso eh ora tocca a te ma cosa voleva ecco l'avrebbero presa in un altro modo negli anni 80 senza i social lui avrebbe detto in un'intervista e sarebbe passato come un gran simpaticone e la stessa meloni tornando indietro agli anni 80 l'avrebbe presa sul ridere ma dai cipollino ma cosa dici ecco poi ne ha dette per esempio altre come delle frasi oscure dice stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene i potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi vabbè oppure nel 2020 diceva sulla politica italiana sono convinta sarebbe convinto lui scrive sono convinta che questo governo deve andare a casa il più presto possibile nel 2020 per limitare i danni psicologicamente causati all'umanità e poi ne aveva detta un'altra sullo stato di salute sulla disponibilità dei medici dice ma chi soffre di mal di schiena chi di mal di pancia chi di mal di testa chi di dolore alle ossa chi di denti chi di colon irritato a chi si deve rivolgere alla tua banca al governo no perché il tuo medico di solito non sta bene intanto prendo una tachiperina ecco insomma a volte poi dopo dopo aveva aggiunto vogliono con i mari regioni stati il popolo ha paura teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l'hanno conosciuto non vogliono tapparsi la bocca con le con le mascherine di pecos bill forse tempo che ritorni il salvatore dei mondi sì lui il supremo che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere la malasorte l'indifferenza dei governi di ogni stato i padroni del mondo cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre lo dico e ripeto ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo dopo due anni vabbè poi aveva fatto delle battute anche su delle su delle signore aveva fatto delle battute ma poi pubbliche scritte sui social che che sono quelle battute che lui avrebbe potuto fare o che ha fatto nei film dei cine panettoni ecco nei film dei cine panettoni queste battute che io non vi posso dire le ha fatte e nei cine panettoni degli anni 90 andavano benissimo ma se massimo boldi le quelle stesse battute le ripete oggi pensate un po che io non posso neanche ripetere la battuta di massimo boldi questo è il livello cui siamo arrivati oggi va bene grazie a tutti e arrivederci a presto